Consigliere Marcozzi, allora il Movimento 5 Stelle vuole fermare l'assalto di Ombrina in Abruzzo, come e perché? Sì, pare sia l'unico a voler fermare l'assalto di Ombrina assieme ai cittadini e oggi abbiamo presentato un'iniziativa sul sito movimentocinquestelleabruzzo.it tutti i cittadini potranno scaricare un modello prestampato da compilare e inviare al Ministero dell'Ambiente con le osservazioni negative, quindi con le osservazioni contro Ombrina mare la partecipazione per noi è tutto e siamo sempre a fianco dei cittadini perché siamo cittadini la cosa che ci terrei a sottolineare è il fatto che il Presidente D'Alfonso che in campagna elettorale ci ha tanto dichiarato di essere contro Ombrina mare, ci ricordiamo che le dichiarazioni sul fatto che avrebbe combattuto gli UFO che si avvicinavano ai nostri mari oggi pare silente, insomma noi chiediamo a tutti i livelli della politica quindi noi consiglieri regionali in regione, i parlamentari in Parlamento una posizione netta e chiara contro Ombrina Onorevole Vacca, allora il Movimento 5 Stelle ribadisce la sua ferma contrarietà ad Ombrina in Abruzzo Sì, è un anno che non lo diciamo, non è il nostro no ma è il no degli abruzzesi che sono espressi con la manifestazione più partecipata della storia della nostra regione già ad aprile dell'anno scorso, il 2013 questo siamo all'ennesimo momento cruciale nella questione Ombrina perché è in discussione un decreto al Senato il decreto 91 nel quale il Governo, e quindi facciamo un appello al sottosegretario Legnini potrebbe inserire un emendamento per porre definitivamente fine a questa vicenda faremo un appello tramite una lettera firmata a tutti i parlamentari e i consiglieri regionali e inoltre invieremo e invitiamo tutti i cittadini a farlo le osservazioni al procedimento AIA che attualmente è in discussione al Ministero dell'Ambiente in modo che tutti i cittadini abruzzesi manifestino la propria contrarietà anche al Ministero in modo che il Ministro sappia che l'Abruzzo non vuole Ombrina mare quindi sul nostro sito www.movimento5stelabruzzo.it i cittadini possono trovare tutte le informazioni le modalità con il modello da scaricare, sottoscrivere e inviare al Ministro dell'Ambiente in modo che venga inondato da osservazioni da parte degli abruzzesi